Ragazzi, da d'ora in poi, ogni sabato potete trovarci in live su Twitch, comunque prima della live vi metteremo un video per dirvi l'ora preciso in cui ci sarà E niente, c'è il link in descrizione, stack tv, trattino basso, addio Ok Ok, saluti ragazzi, benvenuti a stack tv, io sono Anas E come state benvenendo, oggi siamo qui in un tutorial per spiegarvi come ottenere skin di CSGO in modo totalmente gratuito Per prima cosa andate sul link in descrizione che trovate in ogni nostro video In questo caso ci sono due link, sarebbero i due link referral, il mio e il DJ, che scegliete voi quale In questo caso io ne prendo totalmente a caso, cioè prendo il mio E andate sul sito, e questo sito che c'è fuori è csgopoints.com Ok, allora, questa è la schermata che vedete voi appena entrate dal sito Dovete fare sign in in Trout Steam, fate agree per accettare i termini di servizi Poi, state sicuri al 100% perché CSGO points non è un sito di quelli là che vi fanno cose con il vostro account di Steam Quindi accedete col vostro account di Steam, io sono già acceso quindi entro E appunto mettete il vostro nome utente Steam e la vostra password Ok, appena avete messo il vostro account e la vostra password Andate, vi trovate subito in questa schermata Appunto, andiamo subito a vedere Qui abbiamo earn points, CSGO skin, community, ladder board ed help Home è appunto, vabbè, la schermata iniziale della home Earn points sarebbero appunto i modi per cui, come fate a guadagnare punti Come vedete ci sono varie offerte, vari tipi di offerte Per esempio qua, tramite Trial Pay abbiamo varie offerte Non so, per esempio, questa qua Aspettate, tipo Fan Basketball Se voi, dal vostro telefono, tramite una mail che vi invieranno, eccetera Da quel link, scaricate questa app e guadagnerete 4 punti E poi basta qua, vicino al vostro, vicino a my account Rifresciare e automaticamente vi aggiorna i punti Poi, come vedete qua, ci sono vari metodi per farlo Ce ne sono veramente tanti Ci sono tramite AdGate, tramite Videolab, eccetera Oppure, c'è l'altro modo che è, diciamo, i metodi un po' più semplici per farli Ossia, il metodo ad CSGOPoints.com Che sarebbe questo metodo, se in poche parole dovete Mettere CSGOPoints.com nel vostro nome Steam, come ho fatto io Quindi non vi da nessun problema Per esempio, io mi chiamo Anas Lee, CSGOPoints.com E dovete joinare il gruppo Steam di CSGOPoints.com E settarlo come gruppo primario Quindi non vi costa nulla, soprattutto se come me i gruppi neanche li utilizzate in Steam E appunto, mettete questo gruppo primario E ogni giorno potete tornare qua In questo caso io, come vedete, l'ho già fatto Ogni 24 ore potete entrare qua e chiedere 0.4 points Lo so che sono pochi, però vedrete dopo che le skin non costano neanche tanto Poi un altro modo, appunto, riferre al link Che secondo me è quello, diciamo, più semplice Soprattutto se magari avete canali telegram O gruppi di amici o cosa simile Che anche loro hanno bisogno di queste skin Potete sfruttarlo Semplicissimo Voi prendete il vostro link In questo caso questo è il mio Lo inviate ai vostri amici Il vostro amico entra Si iscrive Arriva un totale di 10 punti Al momento in cui lui ha raggiunto 10 punti Verranno anche te dati 10 punti Lo so, deve arrivare a 10 punti Quindi ci vuole un po' di tempo Ma se magari è un vostro amico che ha tempo da perdere E magari è un tipo anche abbastanza paziente Perché fidatevi i punti Ci mette un po' a darveli È una cosa un po' macchinosa E niente Oppure, come sto facendo io in questo caso Potete fare il create Se avete un canale YouTube con almeno 10 iscritti Dovete semplicemente fare un video Il video deve essere creato da voi Chiaramente non potete andare a sprendere video da altri Dovete Il video deve essere Deve far vedere Tutto il funzionamento Del sito Quindi mostrate alla perfezione quello che fa Come sto facendo io in questo caso Dovete avere almeno 10 iscritti E dovete postare il vostro link di invito nella descrizione Quindi cosa molto semplice E poi dovete contattarli Vi diranno i punti Io ancora questa cosa non l'ho provata La sto provando adesso Vedrò se funzionerà In caso ve lo scriverò nei commenti Vedrò Poi Andiamo a vedere le skin di CS Qua su Instant Skin Vediamo le offerte Come vedete costano veramente tanto Ma sono cose tipo Asimov Cose diciamo che È normale che costino tanto Vedete Ci si traicendo stanno a punti Però in genere non vengonoci tanto Andiamo a vedere altre skin Per esempio Pistole Le pistole che sono quelle che costano Come vedete Le skin costano anche pochissimo Per esempio Questa skin qua Della Tech O magari aspettate Questa qui della P250 Abbastanza carina Bianco e nero Viene solo 10 punti Quindi non ci vuole neanche così tanto a farli Poi vedete 11 punti 12 punti Comunque sono cose che costano poco Poi chiaramente Se siete gente che ha pazienza In un mese Due Se ogni giorno entrate Fate offerte Riuscite a guadagnare punti E riuscite anche a arrivare Magari non a prendere Una WP Asimov Perché comunque Un Asimov Da 3640 punti È un po' tanto Però magari riuscire a prendere Un P90 Asimov Per esempio O comunque queste skin di AK Tech M4A1S Cioè silenziato Sono molto molto carine Allora ragazzi Il tutorial è finito Era un tutorial abbastanza corto Io vi ho lasciato il link In descrizione se volete Così se raggiudete i 10 punti Ne guadagnerò anch'io Quindi Se ci avete voglia Se no fate i fili di buttana Andate a cercare il sito su Google E Bravi Complimenti E niente Advederci No Ok Perfetto Addio